Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi dell'Inter, visto che è il tema comunque principale del canale e soprattutto può essere anche un modo per svagarci un po' da questo momento infernale. Voglio parlarvi dell'Inter, ma degli ultimi 15 anni di primavera, per capire dove sono finiti i nostri giovani pupilli, i nostri campioncini che hanno vinto, Coppe Italia, Primavera, Coppe, eccetera eccetera. Capire dove sono, cosa hanno fatto, quanto valgono, dove hanno fatto successo e questo può riuscire, può aiutarci in qualche modo a ragionare anche sul discorso giovani, vivaio, prima squadra. Perché molto spesso c'è questa bagarre, i giovani devono giocare di più oppure no, devono giocare meno, tutte queste cose devono essere valorizzate e molto spesso per fare queste campagne, diciamo, posizionali, per prendere queste posizioni, difenderle, si prende sempre l'esempio di un giocatore per giustificare il proprio preconcetto, la propria posizione. Però è sicuramente un modo sbagliato di porsi, di fare, perché molto spesso le nostre percezioni, e soprattutto un esempio non giustifica il tutto, ma le nostre percezioni sono diverse dalla realtà. Quindi sarebbe molto utile, secondo me, prendere tutto il database negli ultimi 15 anni per vedere un po' di dare un disegno globale alla nostra situazione, ecco, di valorizzazione giovani. Prima di iniziare col video faccio una parentesi doverosa, sapete che a me i prologhi piacciono, gli intro piacciono, ma perché sono parte in sé del contenuto. Credo che sia un modo anche per conoscersi, per farvi capire chi sono, come sono, come gestisco il canale, come ragiono, come penso. Ultimamente sto parlando anche di altre cose, oltre che dell'Inter, ma credo che sia assolutamente coerente con il mio canale. L'Inter è quasi un strumento, attraverso la nostra passione, che è l'Inter, cercare di darci anche un modo, una forma mentis, un approccio in generale, che si può utilizzare anche nella vita, avere una metodologia. Ecco, quello è quello che ho fatto in questi tre anni. Cercare di far capire che dell'Inter, come di qualsiasi altra cosa, si può parlare anche in maniera ragionevole, ponderata, equilibrata, ragionando in maniera logica e non solo di pancia, con luoghi comuni, le percezioni, le impressioni, le proprie posizioni politiche che si possono avere su qualsiasi tipo di argomento, il giocatore, la tattica, la colpa di qua e la colpa di là. E questo è lo scopo del mio canale. Quindi, nei momenti in cui adesso parlo anche di altre cose, secondo me la coerenza è massima in realtà, perché il canale si chiama Hermes Messaggero Nero Azzurro. Il voler portare dei messaggi, voler in qualche modo dare degli spunti e veicolare dei valori, che secondo me sono importanti e che non ritrovavo nel dibattito pubblico interista su YouTube quando ho aperto il canale. Quindi, ora parliamo di altro semplicemente perché il calcio è ibernato, è in pausa totale, e perché la situazione è epocale che stiamo vivendo. Molti non se ne rendono conto, altri non se ne vogliono rendere conto, ma se ne dovranno rendere conto e se ne renderanno conto tutti nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Se avessimo la possibilità di astrarci e di andare in avanti nel tempo di 50 anni o 100 anni, probabilmente, vedendoci da fuori, riconosceremo che questo momento avrà cambiato le nostre vite. Dal punto di vista dei comportamenti sociali, dal punto di vista anche economico, del nostro tenore di vita futuro, che non sarà più quello che avevamo prima. E quindi bisogna anche vedere un po' quello che ci circonda e cercare di capirlo. Magari non in maniera perfetta, ma illuminarlo il più possibile, no? Poi, per quanto riguarda il calcio, a me piacerebbe parlare sempre di calcio. Sarebbe anche molto più redditizio dal punto di vista del canale, perché fai molte più views, eccetera. Ma di cosa si può parlare adesso? Di calciomercato? Questo sarebbe incoerente con i miei messaggi, con i miei valori. Perché attualmente, cosa che posso dire del calciomercato? Che non so le perdite dei club, non so i danni economici che possono avere dai biglietti rimborsati, i biglietti non venduti, il campionato che non so neanche se finisce, se riprende o no. Non so le classifiche come vengono stilate, non so l'accesso alle coppe prossime, in base a che criteri viene assegnato, quindi anche i futuri premi che si possono avere. Quindi non so nulla a livello economico, ho pochi dati su cui fondare dei ragionamenti logici, realistici per il prossimo mercato. Non so neanche quanto si inflazionerà o si deflazionerà il valore del calciomercato, quindi l'andamento poi dei prezzi, di cartellini e tutto quanto. Come faccio a venire qui? Con che faccia vengo qui a parlarvi di calciomercato magari ogni giorno su cose in cui non so su cosa avasarmi? Questo sarebbe incoerente con quello che ho sempre fatto, no? E quindi ci rinuncio, non lo faccio, lo faccio almeno possibile. E questo ha dei grandi costi dal punto di vista mio, perché rinunci a views che portano introiti. E quindi hai un grande danno. Però questo è il modo con cui gestisco il canale. Quindi preferisco con grande coraggio parlarvi di altre cose, anche a costo di stare antipatico a qualcuno. Per me è molto importante veicolare quello che sono, come penso, e un senso di trasparenza nei vostri confronti. Per quanto riguarda, quindi, il ragionamento che volevo fare oggi per quanto riguarda la primavera, prendo spunto, anzi mi è venuto in mente questo ragionamento, sull'ultima vicenda di Gnonto, no? Un giocatore molto giovane, sedicenne, dall'Inter, perso, perché va allo Zurigo, e molti si sono lamentati, no? Sui social per questa perdita, no? Abbiamo perso un nostro giovane, maledizione, non puntiamo sui giovani. E questo giovane ha scelto lui di andare via, non è l'Inter che ha ceduto il giocatore, e questo giocatore semplicemente ha deciso di accettare l'offerta dello Zurigo, che gli prometteva uno scatto di anzianità maggiore, più veloce, quindi di andare subito magari in prima squadra, o magari come riserva, di avere un contratto già professionistico, mentre l'Inter gli proponeva di continuare al momento di fare un percorso all'interno del vivaio, perché ha comunque ancora 16 anni. Quindi vorrei vedere insieme a voi quelli che sono, intanto partiamo dicendo quelli che sono i giocatori più famosi delle nostre primavera e vincenze negli ultimi dieci anni, per esempio Bardi, Benedetti, Biraghi, Faraoni, Romano, Crisetig, oppure Bessa, insomma ce ne sono tanti, Garritano, Mbaie, Spendlofer, Duncan, Samuele Longo, Livaia, Manai, insomma ce ne sono veramente tantissimi che vi ricorderete, Bonazzoli, eccetera, eccetera. New Curie, Nian Ghe, Di Marco, ce ne sono veramente tantissimi. E tra questi tantissimi ci sono circa 200 questi giocatori, abbiamo solo 8 giocatori su 200 che attualmente superano i 10 milioni di valutazione. 10 quasi giocatori su 200 è il 5%, vuol dire che il 95% di tutti i giocatori che sono usciti dalla nostra primavera valgono ad oggi meno di 10 milioni di euro, quindi non sono assolutamente utili alla causa nera azzurra, ammesso che qualcuno di quelli che superano i 10 milioni lo sia, adesso vediamo chi sono. Allora partiamo dalla cosa più dolorosa, cioè i giocatori che valgono di più. Il giocatore che vale di più in assoluto oggi sfuggito dalla primavera dell'Inter si chiama Nicolò e è Zaniolo il cognome. Nicolò Zaniolo vale 45 milioni attualmente, se lo siamo fatti sfuggire, però come sappiamo non è perché non ci avessimo visto un gran giocatore, perché l'avevamo acquistato, non era nostro, l'avevamo acquistato dall'Intel in Serie B per dei milioni di euro e l'abbiamo dovuto cedere l'anno dopo a causa di una trattativa, come sapete, che si era imbastita con Angolan per accontentare il tecnico e soprattutto per cercare di far quadrare i conti con un'altra cessione, perché c'era anche Sant'Onna, bisognava far quadrare i conti dal punto di vista del settlement agreement. Nicolò Zaniolo in realtà, cioè veramente non è stato ceduto per 4 milioni e mezzo, ma la sua valutazione reale è circa di 9-10 milioni della cessione dell'Inter, perché si è preferito valutare di più Sant'Onna per un discorso che ho già spiegato di contabilità legato ad alcune cose, ma Sant'Onna 10 milioni assolutamente era fuori mercato, quindi Sant'Onna è stato venduto in realtà per 4-5 e Zaniolo realmente per 10. Comunque ci abbiamo perso perché oggi è un giocatore molto importante che è esploso e ok. Il secondo giocatore che vale di più da 45 milioni si passa a 20, quindi un bello stacco, si chiama Leonardo ed è Bonucci il suo cognome. Ormai ha 32-33 anni, quindi si parla della primavera di tanti anni fa, però è un giocatore che viene fuori dal nostro vivaio e non è stato valorizzato, ahimè, dall'Inter. Prima, forse, prima ancora del triplete. Il terzo giocatore più costoso, che vale di più, si chiama Christian Kwame, ha 22 anni e gioca nella Fiorentina e vale 17 milioni. Poi c'è Marco Arnautovic, 31enne, 16 milioni. Alfred Duncan, 27enne, 13 milioni. Pinamonti, 20enne, 13 milioni. Venduto però a 18, se non sbaglio, dall'Inter, quindi già vale meno della cifra di cessione. E poi c'è Benassi, 11 milioni a 25 anni e della Fiorentina. Tutti gli altri valgono meno di 10 milioni. Quindi questi sono gli unici giocatori che superano la soglia. Però vediamo già che, ad esempio, Benassi, Pinamonti, Duncan, Arnautovic, ma lo stesso Kwame, pur superando i 10 milioni, non sono giocatori comunque da Inter. Potrebbero forse fare le riserve, aiutarci ad allungare la rosa, ma attualmente forse neanche. Non trova spazio quasi neanche Ericsson, Sensi. Figuriamoci se trova spazio magari un Benassi a centrocampo. Però potrebbero essere al limite giocatori su cui si va a puntare per allungare la rosa. E sono i giocatori che valgono di più. Ecco, l'unico giocatore che potrebbe veramente fare la differenza nell'Inter, oltre a Bonucci per caratura tecnica, ma in realtà siamo messi benissimo anche in difesa, quindi magari non sarebbe neanche titolare. Però è Zaniolo. Ecco, l'unico peccato, l'unico rimpianto è Zaniolo. Tutto il resto, ragazzi, su 200 e passa giocatori, tutto il resto vale meno. E vi faccio qualche nome tra quelli che valgono successivamente meno. Mario Ballotelli, da 11 milioni si passa a 5. Mario Ballotelli, 5 milioni e mezzo, gioca al Brescia. Puskas che gioca all'FC Reading in serie B probabilmente della Premier. Quindi non è in Premier League ma nella serie B. E vale 4 milioni. Santon, sappiamo tutti. Gesù, sappiamo tutti. Davide, Faraoni. Livaia, Bessa, Mattia Destro, Mbaie, Odgaard, Bettella, Bonazzoli, Carraro. E si va sempre in giù. Questi valgono già un milione di euro. Il famoso Caldirola, giusto per ricordarci qualche nome che fece scalpore. Caldirola, Bardi, Crin, Hobie, Forte, Miange, Manai, Vid Belek, Bardi appunto. Tutti questi giocatori che hanno fatto scalpore per le loro cessioni. Oddio, abbiamo ceduto questi giocatori che potevano essere il futuro dell'Inter. Oggi valgono meno di un milione. Hanno comunque dai 25, 26, 28 anni. Quindi sono nel pieno delle loro facoltà. E giocano quasi tutte, quasi tutti, in serie B. non solo in serie B italiana, ma addirittura in serie B straniera. Per dire, Bardi gioca in serie B e vale 600 mila euro. E a detta di molti doveva essere quello che doveva assolutamente sostituire il nostro portiere Andanovic. E così altri giocatori. Quindi questo per dire che molto spesso si giustificano le proprie opinioni prendendo per esempio, sì, Zaniolo, che è l'ultimo esempio, ma forse è l'ultimo, è il solo vero esempio di giocatore che è esploso veramente, ma in un contesto che abbiamo già specificato prima del perché è stato ceduto. Ed è forse l'unico giocatore che veramente rimpiangiamo. Tutto il resto, ragazzi, permettetemi di dire che non è da Inter. Ci ha concesso di fare molte plusvalenze che ci sono valse soldi per mettere a posto i conti, a posto il bilancio e per ricostruire l'Inter che era ormai una squadra distrutta. Quindi a questo sono serviti i nostri giocatori. Quindi questo fa pensare che il divario da primavera alla prima squadra sia molto importante, soprattutto tra primavera e prima squadra big, perché l'Inter non è una prima squadra, è una prima squadra big che ormai deve puntare a essere sempre in Champions, potenzialmente lottarsi magari lo scudetto anche nei prossimi anni, queste cose qui. Quindi il divario è molto alto. Questa è la realtà dei fatti. Quindi quando parliamo di giovani, quando pensiamo a Gnonto, perso dall'Inter, perché è andato lo Zurigo, potrà essere anche un'eccezione, magari esploderà, nei prossimi anni non lo sapremo mai, vedremo, però ricordiamoci che l'evidenza, cioè la scienza, i dati, non so come dire, la statistica, si dice che più del 95% delle volte l'Inter non ha perso granché, anzi ci ha fruttato dei soldi o dei risparmi, perché nel momento in cui vendi i giocatori come minimo togli dei contratti e delle cose, quindi hai comunque dei risparmi se non addirittura delle più svalenze. Questa è la realtà. Poi sta a noi come al solito accettare le cose oppure voler pensare dell'altro, si possono fare altre valutazioni sicuramente del tipo ma se avessimo tenuto qualche giocatore nell'Inter magari sarebbe esploso, magari sarebbe diventato quello che oggi non è, con i secoli ma è difficile poi capire la realtà. La statistica è questa, quindi vediamo noi cosa vogliamo pensare? Io cercherei di fidarmi un po' di più ecco della dirigenza soprattutto adesso che abbiamo una bella dirigenza che sa il fatto suo che di errori ne fa comunque meno ancora di prima e quindi quando si perde un giocatore sentiamo che c'è questo scandalo di ognonto o qualche altro giocatore giovanissimo perso così ci può far dispiacere capisco l'emozione la pancia l'emotività però in realtà i dati sono altri. La stessa cosa vale per altri giocatori come Pinamonti Longo Bonazzoli giocatori che erano ritenuti oppure anche Forte Manai Livaya giocatori che oddio no questi qui veramente spopolano saranno di giocatori importanti poi non hanno fatto assolutamente nulla destro pensiamo anche a destro che oggi vale 2-3 milioni quindi questo è fatemi sapere quello che pensate vi ricordo come sempre la live io parlo molto spesso di altre cose non parlo di calcio non si può pronunciare la faccio ogni sera si parla di attualità di economia di politica si vedono video insieme e si fanno le reaction assieme e si fanno tante cose divertenti che possono essere in qualche modo interessanti per magari più di qualcuno di voi se avete dubbi su come si scalica su come si usa eccetera eccetera chiedetemi nei commenti io vi saluto al prossimo video vi do un abbraccione forte lasciate un like commentate e ci vediamo sperando di parlare di cose sempre interessanti che siano riguardanti l'Inter o altre tematiche ciao a tutti